Ben trovata Erpinia, ben ritrovati ai telespettatori di Telenostra. Ci sono due missioni impossibili in Italia politicamente parlando di questi tempi, la formazione del governo e la celebrazione provinciale del congresso PD. Di questo parleremo oggi con i nostri ospiti, ovvero i candidati alla carica di segretario provinciale di un congresso tormentato. Una lunga vicenda che arriva alle battute finali e ne parleremo con i protagonisti, con coloro che hanno manifestato la volontà di proporsi alla guida del partito in Erpinia. Le turbolenze del partito e ancora la bufera che si è scatenata sulla platea, l'intervento di Roma, l'Irpinia che diventa caso nazionale. Non a caso Rossi e Martina, il reggente nazionale, si sono occupati tra una consultazione per il governo e una decisione sull'intervento siriano sulla politica internazionale del caso Avellino, che è finito, la ribalta delle cronache nazionali. La premessa è d'obbligo, qualcuno potrebbe dire ma è una questione per addetti ai lavori e di questi tempi si parla di congresso, non si parla di problemi o ci sono ben altre cose di cui parlare. Noi riteniamo che la politica sia un fatto serio, che la politica debba fare i fatti. Poi il partito che ha subito sicuramente una batosta elettorale alle elezioni, ma che in provincia di Avellino rappresenta comunque il governo di molti comuni, il governo scente del capoluogo, di molti enti di servizio, dal congresso provinciale del PD si dipanano poi decisioni che arrivano sulla pelle dei cittadini di questa provincia. Allora grazie per aver accettato il nostro invito a Michelangelo Ciarcia, ben trovato. Grazie a Giuseppe Di Guglielmo per aver accettato il nostro invito. Grazie, grazie. I due rappresentanti, i due candidati, lo dicevamo prima, alla carica di segretario, supportati da diverse anime del partito. Non so se volete elencarle voi o le dico io o se hanno senso, poi vi chiedo, hanno senso ancora le aree. Allora, chi sostiene la candidatura di Michelangelo Ciarcia? Dunque la mia candidatura è sostenuta dall'onorevole del Basso De Caro, da Enzo Di Luca e da Luigi Famighetti. E poi nel mio schieramento si ritrovano tutti i segretari che hanno avuto carica all'interno del PD, a cominciare da Vittoria, da Caterina Vengua e dall'ultimo Carmine De Blasio. E poi ci sono tanti sostenitori, tanti sindaci, tanti amministratori di questa provincia. Giuseppe Di Guglielmo, chi sostiene la sua mozione o la sua area? La mia candidatura la sostengono innanzitutto le due liste a supporto mio, insomma il territorio protagonista e più dem, insomma due liste anche nel nostro caso dove sono presenti amministratori, sindaci, vice sindaci. Perché questo è la grande segretaria di circo, la grande forza del PD, la presenza sui territori sia attraverso i circoli che attraverso le amministrazioni. E poi personalità del panorama politico provinciale, quindi la Presidente del Consiglio Rosetta D'Amelio, regionale Rosetta D'Amelio, Valentina Paris, Gianluca Festa, consigliere comunale della città, insomma Roberta Santaniello, già Presidente del Partito, Carlo Iannà, una serie di personalità. Però condivido l'aspetto di non parlare più di aree, ma di partito democratico e di persone e di politica e di una visione di quello che vogliamo di questo partito. Non bisogna ragionare per area, per settori, per compartimenti stagni. È possibile questo Michelangelo Ciarcia, dire addio alle correnti e alle aree? Insomma, dire addio è una parola grossa perché non dipende da me né dalla volontà degli elettori. E che comunque questo congresso post 4 marzo ha dato delle direttive molto serie e concrete, insomma, come punti di arrivo o come punti di partenza del Partito Democratico. Anche io sono dell'opinione che non bisognerebbe più ragionare per aree, ma per temi o per idee. Chi ha un'idea migliore, insomma, la può portare avanti e la deve sottolineare, diciamo, degli iscritti e poi dopo del territorio e tutto. C'è un tema, prego. Però abbiamo bisogno chiaramente di lavorarci su questa cosa perché le cose non si realizzano per volontà improvvise, ma si realizzano perché ci si lavora sopra e poi si arriva gradualmente a ottenere il risultato finale, che è quello praticamente di ragionare soltanto sui temi e non per aree, quindi per partito preso. Tra poco proveremo ad andare nei temi che in realtà dovrebbero poi arrivare anche ad essere al centro del congresso provinciale, immagino. Ma di queste ore, diciamo, le polemiche sono note e la domanda è d'obbligo. Congresso provinciale in provincia di Avellino? Si farà? La domanda è banale, ma vorrei che i due candidati rispondessero sul punto. Ciarcia, si farà il congresso provinciale? Il congresso provinciale è stato indetto dal commissario Ermini contro la volontà del commissario Ermini o contro la volontà del partito. Non si mette nessuno perché noi appartiamo a un partito e quindi rispettiamo le regole e gli ordini che vengono impartiti anche a livello romano, anche se sono difficili da digerire. Però, chiaramente, come si svolgerà e come si farà, questo è un altro tema perché sicuramente non possiamo dire ai rappresentanti delle sezioni dei circoli di tenere chiuso perché non è questa la regola. La regola è che i circoli debbano aprire e debbano consentire a chi vuole esercitare il diritto di voto di farlo liberamente negli orari che sono stati prefissati in precedenza dai rispettivi segretari, perché queste sono le direttive generali. Noi, il Partito Democratico, debbano avere quel che comunque deve consentire lo svolgimento dei congressi, anche se non siamo d'accordo. Però, insomma, chiaramente ognuno avrà la possibilità di scegliere se votare o non votare, quindi anche alla luce di quella che sarà la partecipazione si tireranno fuori le somme per dire è un congresso regolare, è un congresso che si poteva fare diversamente, è un congresso che ha bisogno di più tempo per ragionare e per riflettere. Insomma, questi sono i temi che poi emergeranno dalla partecipazione. Il congresso si farà, mi sembra di capire e di poter dire anche agli iscritti che forse hanno vissuto un momento di confusione oggettiva in queste ore, insomma le decisioni locali, l'incontro a Roma, in attesa poi di decisioni, il congresso si farà, poi come e con quali esiti. Sì, anche perché immagino che nelle prossime ore di Guglielmo dovrete in qualche modo convincere poi gli iscritti del PD a votare. Le due emozioni. Sul punto condivido quello che ha detto Michelangelo Ciarcia. Quindi è possibile un congresso unitario? Non credo, però sul punto che noi siamo il Partito Democratico e quindi si invita ai militanti, ai segretari di circolo che già hanno comunicato gli orari di apertura di circolo, è un segnale importante da dare a tutto il Partito Democratico. Quindi su questo condivido il punto e condivido l'impegno. E' chiaro che ci sono due gruppi in campo, due squadre in campo, due candidati segretari in campo, ci sono diversità di come immaginare il Partito Democratico nel futuro, però è il nostro compito stimolare alla partecipazione a tutti gli iscritti, ai segretari, a tutti i militanti, a coloro che vogliono bene al Partito Democratico. I candidati possono votare, i candidati segretari? Immagino di sì. Quindi lei andrà a votare. Ciarcia, lei voterà? E' chiaro, l'esercizio del diritto è una cosa importante, poi come voterò, non lo so. Tra l'altro noi siamo due segretari di circolo, io segretario del circolo di Calitri e Michelangelo di Vendicano. Questo è un aspetto importante, secondo me, della fase commissariale di Ermini, dove sono stati svolti circa una novantina di congressi di circolo. Quindi il Partito Democratico è in continuo movimento, è dinamicità. Quindi su questo è un valore che ha il Partito Democratico. C'è chi dice che il Congresso Provinciale stia diventando però un po' la resa dei conti su Avellino, al di là del Congresso Provinciale. Ciarcia? Ma questa è un'ipotesi che sta in campo e non posso certamente spendirla, perché le amministrative ci saranno fra qualche giorno. E quindi chiaramente lo sguardo è rivolto anche a quella cosa. Però se tutti a cominciare a Ermini avevano a cuore le sorti del Partito Democratico, avrebbe dovuto prima lui fare uno sforzo per unificare. Non è un'accusa che voglio rivolgere al commissario, però Ermini è un uomo politico, non era un commissario per il tesseramento così come l'abbiamo avuto l'anno scorso, due anni fa, perché in questa vicenda ci stiamo praticamente rigirando da almeno tre anni. E' stato scelto Ermini quest'anno, cioè Ermini che è un parlamentare, è un uomo che viene dalla politica, e non è il classico burocrate che invece è venuto, ha fatto il burocrate, lui doveva avvicinare le parti perché... Qual è stata la colpa di Ermini? Ermini non ha parlato e non ha fatto parlare. Ermini è venuto, ha nominato dei subcommissari senza ascoltare nessuno, non si è reso conto della situazione personalmente, ma se l'è sentita raccontare da una parte o da alcune parti. Ha completamente non ascoltato tante altre parti, a cominciare da me, che sono un tesoriere che in questo partito ci sta da dieci anni e che ha avuto massimo rispetto di tutte le figure che all'interno del partito ci sono state e si è guadagnato anche il rispetto di tante persone che nel partito sono anche contrari alle mie idee politiche. Per cui sono stati messi in disparte, come sono stati messi in disparte tante altre persone, che potevano raccontare a Ermini il proprio punto di vista e poi lui si sarebbe fatto una visione, avrebbe ascoltato tutti, avrebbe messo... Allora sul punto... Mi interessa capire di Guglielmo l'operato di Ermini, mancato ascolto, dice Ciarcia. No, io dico, noi veniamo da due anni di gestione del partito dopo le dimissioni di De Blasio con il cosiddetto direttorio, con le figure istituzionali e poi questo commissariamento prima per il congresso e poi politico. è chiaro che veniamo da una serie di stratificazioni. Ermini credo che abbia svolto insomma bene il compito di commissario politico, però è chiaro che ci sono molte questioni che restano ancora sul campo e vanno affrontate anche dopo il congresso provinciale, sempre cercando di stare tutti insieme nell'unitarietà, anche nella diversità che ci distingue, insomma, nelle varie emozioni. Io rispetto molto Michelangelo e il lavoro che ha svolto in questi dieci anni da tesoriere del partito, quindi come dire, c'è discussione, c'è dinamismo, ma deve essere una sana discussione, non... Ecco, dalla discussione sin cui è emersa mi sembra di poter dire che i candidati segretari sono disponibili al confronto e in qualche modo ci siano posizioni divergenti e differenti. Poi però dalle cronache anche che raccontiamo, che abbiamo letto sui giornali, però al di là delle convergenze, sono le divergenze che in queste ore risaltano e fanno dire il PD è nella bufera del congresso. Perché si è parlato anche di possibili ricorsi alla magistratura, Ciarcia? Ma questo è un luogo comune. Ormai il Partito Democratico, da nord a sud, insomma, quando i problemi non si risolvano, perché diventa un partito centralizzato, quello che è diventato il Partito Democratico, e l'abbiamo visto anche nell'ultima competizione elettorale, i candidati scelti tutti quando a Roma, senza che il territorio abbia potuto esprimere la propria idea al riguardo e senza poter dire che questi sono i migliori nostri candidati, perché il territorio lo conoscono, ci lavorano e ci vivono. Se noi praticamente ci siamo affidati alla centralità del giudizio e del comportamento di Roma, è chiaro che poi subiamo queste cose che non si condividono, perché il territorio prima di tutto vuole essere rispettato, vuole partecipare, vuole essere rispettato. Se poi si rivolta contro, chiaramente uno ha bisogno di prendere coscienza di questa cosa. Cosa che non avviene nemmeno in questa circostanza, perché Ermini da Roma vuole dirigere il congresso di Avellino, cosa che invece non avrebbe dovuto fare. Io ho sottoposto, mercoledì che sono andato a Roma, sei punti fondamentali per la discussione, non per dire ho ragione io. Ho detto questi sono dei punti critici, analizziamoli insieme. Ho chiesto anche un tavolo di confronto per poter dire mettiamoli insieme e vediamo quali sono i punti critici per poter analizzare e per poter fare anche pulizia di qualche eventuale incrostazione che c'è. Il partito ha detto no, si va avanti. E questa è la cosa triste a cui bisogna praticamente rispondere. E da qui poi i ricorsi alla magistratura? I ricorsi alla magistratura scattano nel momento in cui non c'è rispetto di questa cosa. Potrebbero scattare, perché non è un'ipotesi che io metto in campo. Perché io penso prima di tutto che i problemi politici si risolvano in chiave politica. Però quando in tema politica non vengono ascoltati, chiaramente noi non siamo per niente stati ascoltati. Perché tutta la vicenda che è nata dal commissariamento di Termini, anzi partirei da prima, da quando è stato anche, diciamo commissariato, lui ha detto si è dimesso, ma Carmine De Blasio è stato costretto alle dimissioni e ha fatto un atto di generosità. Perché poteva pure dire non mi dimetto perché la maggioranza non sta contro di me. Da quella data in poi ci sono state imposte tutte le situazioni. Sono trascorsi due anni da due anni. E quindi quando si vede che le soluzioni non trovano, in ambito politico, non trovano necessaria la giusta condivisione o interesse, chiaramente poi c'è qualcuno che potrà dire ma a questo punto vediamo di fare anche un'altra strada. Alla fine, non so se i nostri telespettatori hanno compreso le posizioni di Guglielmo, che congresso sarà quello che si svolgerà domenica e lunedì? Innanzitutto io spero che sia un congresso partecipato, mi ripeto, su differenti posizioni, anche rispetto alle mozioni. Io ieri ho presentato alla mia mozione con i capilista delle liste collegate, una visione del Partito Democratico, una partecipazione dei circoli, perché la provincia di Avellino ha una serie di circoli nei territori, quindi bisogna dare valore a questi punti di riferimento sul territorio e far sì che tutte le istanze che vengono dai circoli, dai territori, la federazione provinciale possa fare sintesi e portare anche ai livelli superiori o ai livelli del governo centrale o regionale le questioni locali. È chiaro che quello che diceva Michelangelo è importante, il rinnovamento o come selezionare la classe dirigente, questo è un tema importante che non si affronta solo ad Avellino, ma è un tema nazionale del Partito Democratico. Come facciamo a selezionare la classe dirigente sia a livello locale che poi anche a livello nazionale? Quindi sono temi importanti che dovremmo affrontare collegialmente, come dire, anche rispetto alla Campania o ai contatti con Roma, insomma. Il tema divisivo sostanzialmente, mi sembra di poter dire, è anche stato sulle regole di questo congresso, sulla platea del congresso. Alla fine, Ciarcia, quante persone andranno materialmente a votare tra domenica e lunedì? Io penso meno della metà. Quindi? Perché... Siamo su? Eh no, la platea congressuale, insomma, io l'ho avuta soltanto qualche giorno fa, insomma, martedì notte, a mezzanotte e mezza, perché quella che mi è stata mandata in precedenza era completamente spallata. Se ne sono accorti perché l'ho rappresentata a Termini, ha corretto, insomma, eventualmente qualche cosa, me l'ha definitivamente mandata soltanto martedì a mezzanotte e mezza. Diciamo a beneficio di chi ci ascolta. C'è stato un lavoro svolto dalla Commissione Provinciale, poi ci sono stati degli organismi di garanzia, regionale e nazionale, che sono intervenuti sul tema. Sì, sono intervenuti sul tema, però sono intervenuti sulle regole, perché la Commissione regionale di garanzia non ha detto nulla al riguardo dei ricorsi che sono stati praticamente presentati. Ha detto a Roma, alla Commissione nazionale, ci sono delle contraddizioni nei regolamenti, per cui metti rivaro. Erminia, posso rivare questa cosa attraverso la emanazione di un nuovo regolamento che poi mi risulta anche essere disapplicato, perché questo regolamento, per cui in un punto, riabilitava il sindaco di Solofra, Vignola, che era incandidabile secondo il vecchio regolamento, e secondo noi è candidabile. Invece noi ci ritroviamo nelle liste che sono state diramate ieri sera da questa Commissione di garanzia, che è tutto, direi, forché di garanzia, perché non garantisce, insomma, prima di tutto, lo svolgimento del regolamento del congresso e poi non garantisce il Partito Democratico. Io non mi metto tra coloro che vuole essere garantito. Io svolgo il mio ruolo nella legittimità della legalità. Però la Commissione di garanzia è del Partito Democratico e noi dobbiamo salvare la faccia del Partito Democratico prima di tutto. Insomma, questa Commissione di garanzia ancora ieri sera ha diramato delle... Lei dice che ci sono ancora delle discrasie, ma si sente di rivolgere un appello per chiudere queste discrasie? È possibile, secondo lei, ancora? Io ho chiesto di risolvere i problemi a ermiti in contraddittorio. La questione di tenere per forza il congresso adesso o la settimana prossima, insomma, a parte che si poteva risolvere già prima, perché questa cosa che io l'ho formalizzata mercoledì mattina, glielo avevo già detto prima, io l'ho chiesto, non l'ha fatto. Diciamo che c'è il lavoro che Roma ha svolto, è un bagliato giusto. Non vuol dire, Ermini, la platea congressuale è pronta solo adesso, significa che ha perso tempo, o significa che ha dei collaboratori poco efficienti, di chi si è fidato, si è fidato alle persone sbagliate, di congressi ad Avellino, ne abbiamo celebrati tantissimi, e sono stati fatti anche con tante accuse, però abbiamo svolti tutti. Le file di via Tagliame, le famose file di via Tagliame. Le famose file di via Tagliame. Le famose file, con tutte le problematiche che c'erano. Comunque abbiamo dato sempre l'impressione a tutti, anche se qualcuno protestava, perché non si trova con i conti, chiaramente di dare una platea certa. E non è vero quello che dicono Ermini, che non conosce la nostra realtà, è quello che dicono anche loro che lo sostengono, Ermini, che noi non abbiamo per la prima volta una platea congressuale. Si sbaglia, perché l'anno scorso c'è stata Tramontana e ha fatto la platea congressuale. Due anni fa c'era riservato e Tramontana da Roma, hanno fatto la platea congressuale. Nel 2013 teniamo la platea congressuale, c'era un valdone così di 14.000 persone. Loro hanno lavorato su 8.000, su 9.000. In quella occasione, nel 2010, abbiamo lavorato su 14.000. Era più complicato, però comunque siamo riusciti a dare, non dica al 100%, abbiamo dato, insomma, contezza di quello che abbiamo fatto, nella trasparenza, perché uno vedeva quello che era successo e protestava. Oggi io non ho visto niente, perciò protesto. Di Guglielmo. No, io vi permetto di correggere Michelangelo su un punto, innanzitutto è commissione per il congresso, non commissione di garanzia, dove ci sono una serie di rappresentanti per far svolgere il congresso provinciale. Il presidente è Cortesi, Carlo Cortesi, nominato da Ermini, che viene dalla Federazione della Toscana. è chiaro che la questione della platea è un tema importante, interessante, che però interessa poco l'opinione pubblica. Noi siamo passati da un tesseramento 2016-2017 di circa 13.500 persone. A questo si sono susseguiti una serie di congressi di circoli e questa platea di 8.000 e qualcosa è frutto appunto di questi congressi di circoli. Quindi la platea c'è, è definita, si è sempre detto a magine di alcuni refusi o errori, ma sostanzialmente siamo su questi numeri. E' chiaro che augurarsi una poca partecipazione o la metà della partecipazione degli iscritti non è un buon segnale, ma non per Giuseppe Di Guglielmo, candidato segretario, ma per tutto il Partito Democratico e per tutti i dirigenti del Partito Democratico. Quindi su questo aspetto io invito i militanti, gli iscritti a partecipare, votando me o votando Michelangelo Ciaccia. Insomma, non è questo il problema, ma la partecipazione, il confronto, la dialettica serena, anche all'interno dei circoli, è importante. Quindi questi sono aspetti fondamentali. Noi su questa platea, Ermini l'altro giorno a Roma ha comunicato che per la prima volta tutta la platea della Federazione di Avellino è inserita in una piattaforma nazionale. Cosa significa questo? Cioè che da Roma direttamente possono controllare iscritto per iscritto. E tra le 100 federazioni, per la prima volta la Federazione anche di Avellino, è in questo sistema nazionale. Non ricordo il nome di questa piattaforma. Quindi da qui in poi ci sarà comunque un lavorio tra la Federazione di Avellino e la Federazione di Roma per fare un check sugli iscritti o se ci saranno in futuro anche discrepanze. Noi purtroppo abbiamo subito una forte sconfitta dopo il 4 marzo, ma ci sono stati discrasie anche tra gli iscritti e i voti avuti nei singoli territori. Quindi c'è un tema, c'è un tema dell'iscrizione, c'è un tema di coloro che votano Partito Democratico. In alcuni comuni abbiamo avuto, se andava bene, gli stessi tesserati e gli stessi voti. Quindi questi sono i temi che non devono dividerci, ma anzi rafforzarci. Credo che su questo, Michelangelo insomma, conviene con me su questo aspetto di lavorare molto di più affinché i militanti tesserati siano reali, siano persone che partecipano alla vita del partito, nelle loro comunità e anche a livello provinciale. E diciamo dall'analisi del voto del 4 marzo, anche se con tempi stretti, con posizioni distanti e distinte, bisogna poi affrontare il discorso delle amministrative. Ecco, nella visione di Michelangelo Ciarcia, il PD alle amministrative, come deve arrivarci e che cosa deve fare? Vi chiedo di essere sintetici così affrontiamo più punti. Come bisogna... Intanto siamo, insomma, lavorando per disunirci. Insomma, noi ci dovevamo arrivare uniti e questo compito sarebbe aspettato ad Ermini principalmente. Perché, insomma, io non voglio scaricare le responsabilità di Dossi Ermini, però anche noi abbiamo le nostre, perché, insomma, ce l'abbiamo messa un poco pure noi. Un poco di... Però Ermini avrebbe dovuto soprattutto fare questo. Mi scusi Ciaccia, se il congresso ci sarà, e ci sarà, perché abbiamo capito che ci sarà, poi ci sarà un risultato. E qualunque esso sia, darà vita, immagino, a degli organismi dirigenti. È chiaro. Poi quegli organismi dirigenti saranno deputati a scegliere, a indirizzare, a dettare la linea politica o no? Ma questa è una cosa che deciderà ancora Roma, perché, poiché Roma ha capito che c'è grossa fibrillazione a Quattro Averino, ha detto delle cose importanti mercoledì. Ha detto, guardate, noi, insomma, se commissariamo di nuovo, metteremo un commissario che sarà il proprietario. Insomma, queste sono frasi che sono riportate al giornale, integralmente, sui giornali. E quindi, insomma, corrisponde... Diciamo che a Roma di Avellino probabilmente sono stufi dopo anche di sentire parlare. Sì, è il problema per cui decideremo se utilizzare il simbolo del Partito Democratico. Qualcuno presente ha commentato che non ci interessa. Già questo vi fa capire, insomma, i rappresentanti là a Roma come erano variegati. Io sono stato sempre nel PD e, insomma, per me, candidarmi sotto il simbolo del PD è un onore. Invece ci sta chi oggi per questioni personali e ambizioni personali dice se ne possiamo fare a meno del simbolo. È meglio perché così ci abbiamo più possibilità. Io lotto sotto il simbolo del partito e mi batto per il partito. Poi dopo, perdo, perdo, vingo, vingo. Punto. Il simbolo del PD... Il tema, però, degli organismi dirigenti io l'ho citato non a caso perché abbiamo visto nelle altre amministrative le ultime, ad esempio, candidati del PD che poi si sono ritrovati in maggioranza, in opposizione. Allora, il tema è in queste amministrative se ci saranno degli organismi dirigenti poi questi organismi dirigenti decideranno, non lo so, se fare il simbolo, darlo o non darlo. Poi si faranno le elezioni. Gli organismi dirigenti poi potranno anche decidere chi sono, chi è il PD, chi non è il PD. Non so se decideranno nella loro autonomia perché Roma vorrà metterci lo zambino dentro così come ha già detto insomma su questa cosa. Bisogna vedere se persiste poi insomma questa diatriba interna se effettivamente poi Roma deciderà di consentire il simbolo perché il simbolo diciamo lo rilascia il segretario nazionale quindi oggi lo rilascia Martina quindi Roma deciderà su questa cosa. Certo che gli organismi dirigenti nella loro autonomia decideranno però sono organismi dirigenti che se ci sarà una scarsa partecipazione al voto saranno dimezzati quindi dovranno anche loro fare coscienza di questa cosa se hanno interesse e bene per il partito che le cose insomma passate alla bufera sembra di capire che non si sforzerà più di tanto per lei per far partecipare al voto vista la posizione critica è la posizione critica perché non sono soddisfatto accontente delle decisioni che ha preso cioè io non sono stato proprio ascoltato Ermini poteva dare un segno almeno un segno di buon senso non l'ha fatto doveva essere il buon padre di famiglia e invece praticamente ha fatto il tiranno che ha deciso anzi voleva fare l'albito però insomma ha tirato il calcio di rigore a favore della lista di Guglielmo di Guglielmo il congresso ve lo giocate voi con porta spalancata no 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 io penso che quello che diceva Michelangelo se il simbolo del PD vale per le amministrative anche vale per i circoli per i militanti quindi se c'è responsabilità e dobbiamo chiamare tutti alla responsabilità non possiamo fare appelli come ho letto sulla stampa e che adesso insomma anche tu hai detto tra le righe ci disimpegniamo insomma questo è chiaro un messaggio insomma sbagliato sotto il mio punto di vista sia per quanto riguarda le amministrative che per quanto riguarda congressi di circolo o congressi provinciali insomma è il nostro dovere andare partecipare votare ognuna per le proprie emozioni e poi negli organismi eletti negli organismi eletti rappresentare le diverse posizioni e per questo ci chiamiamo partito democratico insomma anche su questo abbiamo due gradi di giudizio una commissione regionale di garanzia e una commissione nazionale di garanzia che hanno fatto anche carezza sui vari ricorsi ho torto a ragione insomma però ci sono solo uno e gli altri non hanno ancora deciso ce ne sono ancora diversi giacenti in commissione regionale che dovrebbero dire penso stasera o domani non lo so prima del congresso presumo altrimenti facciamo la giustizia dottorgeria cosa che ho detto a termini quindi c'è ancora spazio per decisioni fino a sabato ha detto De Carli ha dichiarato tutto può ancora accadere ci sono una serie di ricorsi per sentare la commissione regionale che ancora non ha deciso e a proposito dei ricorsi insomma io volevo obiettare una cosa anche perché il partito democratico è il partito delle regole però è il partito delle regole che non si applicano mai perché a questo punto è meglio che annulliamo i regolamenti facciamo come fanno gli altri partiti il capo decide il segretario decide ogni volta come fa Berlusconi come fa Grillo come fa qualche altro il partito delle regole le regole esistono ma hanno sempre rispettate altrimenti che regole decidiamo allora i ricorsi di Solopra e di Cervinara stavano giacenti da sei mesi e non sono stati mai decisi da Roma sono stati decisi cioè mentre Napoli li ha decisi subito Roma non li ha decisi li ha decisi l'ha decisi d'altro giorno allora per me questa è giustizia orologeria c'era qualcuno che aveva interesse a penalizzare la mia lista e ha deciso quelle cose d'altronde voglio sottolineare anche il comportamento di serietà del sindaco Vignola che praticamente era uno il comune uno dei circoli ricorrenti che poteva anche ritirare per interesse diciamo ricordata il ricorso non l'ha ritirato perché insomma le persone serie si comportano seriamente sempre il tema della platea resta inevitabilmente il motivo divisivo tra le due mozioni per la segreteria e non so se ancora nelle prossime ore potrà o meno accadere qualcosa perché da Roma intanto arriva un silenzio assenso che mi sembra di poter dire indichi la strada del congresso di Guglielmo mediazione è ancora possibile secondo lei su questo tema guardi io spero di sì perché noi siamo persone che dialoghiamo sempre con Michelangelo abbiamo fatto anche precedentemente nella fase commissariale guidata di Ermini è chiaro che Ermini è qui non per volere suo o per volere di Roma perché noi non siamo stati in grado di fare il congresso a luglio farlo a settembre farlo a gennaio quindi c'è un problema nella federazione di Avellino che si trascina da qualche anno è stato mandato qui per risolvere alcuni problemi però lo stato dell'arte insomma non è per volontà di Roma mandare Ermini qui quindi adesso siamo noi siamo la responsabilità è la nostra la classe dirigente di Avellino i segretari di circo le militanti a farsi carico delle questioni e quindi per questo è importante fare un congresso provinciale sulle questioni abbiamo discusso poco il tempo è poco a disposizione ma ci dice una cosa di cui il partito democratico unito disunito faccia lei si dovrà occupare al di là delle amministrative di decidere chi sarà il candidato sindaco o come si arriverà il candidato sindaco ecco un problema un tema io nella mia mozione abbiamo imposto una serie di temi imposto l'attenzione a una serie di temi dalla questione delle zone industriali della desertificazione delle zone industriali a partire dall'area del Calaggio ma anche in altre zone della questione della cultura del buon vivere dei piccoli comuni ci sono una serie dei migranti ad esempio la questione dell'immigrazione e quindi dei centri SPAR come i nostri le nostre comunità e le nostre amministrazioni gestiscono queste questioni insomma noi ci dovremmo occupare dei problemi Martina qualche settimana fa il segretario reggine del Partito Democratico ha detto il PD deve ritornare nei luoghi del bisogno nelle periferie l'altro giorno proprio si parlava del reddito di inclusione che ha fatto il governo di centrosinistra guidato da da Gentiloni e prima da Renzi noi dobbiamo avere la capacità di spiegare le cose buone fatte dal governo non solo nazionale ma anche regionale quindi a supporto e anche criticare a volte se non vanno bene alcune politiche messe in campo dalla regione una cosa da fare per l'Irpinia Ciarcia i temi sono comuni insomma noi siamo dello stesso partito non siamo di partiti diversi per cui la visione diciamo del futuro o di come si deve gestire la comunità locale insomma gli argomenti sono gli stessi è che come si intende svolgere perché la questione è tra quello che si dice e tra quello che si fa io posso dire che se insomma su questa cosa mi sarei impegnato sarei stato eletto segretario provinciale insomma la vicinanza del territorio perché devi ascoltare prima i bisogni della gente vanno ascoltati non vanno praticamente ascoltare soltanto nelle stanze del potere ad Avellino a Napoli ma il territorio deve essere vicino e se non è vicino perché è lontano sei tu che vai da loro e li vai ad ascoltare senta tutto può succedere nelle prossime ore il PD ci ha abituato insomma ai colpi di scena quindi potrebbe questa trasmissione potrebbe essere superata nelle prossime ore da decisioni o non decisioni vediamo io però qualcosa la devo portare a casa dal punto di vista giornalistico il PD celebra il congresso Ciarcia dice Ciarcia come candidato segretario di varie aree ve lo fate voi sostanzialmente questo congresso e poi a seconda della partecipazione vediamo se riconoscere o meno la elezione di Di Guglielmo ma per noi è un congresso che non è stato fatto nelle regole la prima cosa è la legalità noi abbiamo posto un problema serio ci sono 1200 tessere più altre 400 di tessere online che non sono state pagate cioè sono state inserite volontariamente per favorire qualcuno non so all'epoca se già immaginavano però sono state inserite ad hoc sappiamo pure la provenienza di queste cose e anche il motivo per cui è stato fatto la questione è semplice noi abbiamo spiegato a Roma purtroppo piuttosto che ascoltare il bisogno vero di un partito democratico si ascolta gli avventurieri del momento coloro che hanno bisogno di avere una poltrona sotto il sedere per cominciare quindi lei parla di congresso illegale per me è illegale perché la legalità non è stata rispettata cioè la protea è fasulla non è quella e non parlo di tessere di Avellino perché il lavoro che ha fatto di cui è io non lo sto disprezzando perché lui ha fatto il lavoro serio si è completato con me il lavoro che hanno fatto a Roma che Roma ci manda una protea congressuale di online in cui praticamente non hanno pagato e se non hanno pagato per quale motivo inserirlo allora c'è un aggancio romano su questa cosa perché Roma io questa cosa glielo ho sbattuto letteralmente in faccia a Roma e c'era presente anche il funzionario della tesoreria non ha detto nemmeno una parola poi le vuole smendire dire non è vero quello che stai dicendo oppure un attestato in cui si dice hanno pagato non hanno fatto tutto questo e io continuo ad insistere che sono tessere non pagate Di Guilhermo lei c'era noi non c'eravamo a quell'incontro romano il congresso è illegale? No il congresso è illegale perché ripeto c'è stata questa nota di Martino e di Rossi quindi sia segretario organizzativo che segretario reggente quindi è nel pieni poteri e pieni funzioni insomma di indirlo è chiaro che la questione del tesseramento online è stata già dibattuta anche nella vecchia commissione per il congresso di cui io ero presidente e dove Matteo Renzi la loro segretario ebbe il 70% io certificai all'epoca nel 2016 una platea di 6.800 quasi 7.000 iscritti e lì ci ritrovammo questa questione dei tesserati online che non andarono a votare che non andarono a votare adesso non andarono infatti sono stati depennati e nella platea attuale se ne trovano circa 600 580 questo è il numero che Michelangelo e altri contestano però noi come all'epoca e adesso la differenza è tra 600 la differenza è di 1.500 perché loro portano una platea congressuale di 8.600 io ne porto una di 7.200 la differenza vedete qual è e Roma ha scelto 8.000 è Roma ha scelto perché Roma ascolta le persone e dice chi la dice di un modo chi la dice di un altro io dico io mi sono presentato a Roma io sono il tesoriere del partito voi siete convinti da 10 anni e quindi conosco le persone di questi tempi andranno a votare incideranno non penso però la questione non è se andranno a votare o no meno è che prima di tutto viene la legalità quindi se non hanno pagato stanno fuori oltretutto hanno avuto la possibilità l'anno scorso sulla parola congressuale di andare quando abbiamo fatto il congresso per la seconda elezione di Renzi a Segretario quindi abbiamo fatto potevano regolarizzare la loro posizione non l'hanno regolarizzata poi abbiamo fatto il congresso di circolo e nemmeno si sono presentati adesso ancora ci riportano una parola di 1200 o di 1600 ma senza questi si fa il congresso per lei senza questi 1000 noi abbiamo detto senza di questi però avremmo fatto la cosa e quello è il tema di Guglielmo sì il tema è quello però io non mi impiccherei su queste questioni perché c'è stata all'epoca una delibera della commissione nazionale che ribaltava già nel 2016 questi famosi online quindi come giovani democratici che hanno un proprio tesseramento e hanno però diritto di votare al congresso provinciale del partito democratico cioè sono persone che hanno diritto le persone che si sono iscritte online e questo è il tema che è venuto credo che su questa cosa non sono d'accordo perché la tesser online si completa l'iscrizione al partito con il pagamento con carta di credito questa opzione non so come è stata cioè il mancato pagamento come è stato scoperto sicuramente da parte di qualcuno di Roma che conosce il sistema ha detto come bisogna fare perché 1200 tesseri perché io discuto di 1200 e le 400 di cui sono 1200 più 400 sono di marzo 2017 e hanno pagato col bollettino postale questi qua invece non hanno per niente regolarizzato era un pacchetto di tesseri che stava là depositato e l'occorrenza potrebbe essere utilizzata e adesso è stato di fatto utilizzato e però utilizzato contro queste illegalità io sto dimostrando tutta la mia praticamente la protesta chiara la posizione no ma io per quello che ripeto quello che ho visto anche nei numeri sono molto meno sono 600 580 e grazie ai congressi di circolo c'è stato un depennamento un depennamento naturale perché le persone come diceva Michele Anzio non si sono presentate e quindi automaticamente sai che non è vero perché nel mio circolo di venticano 15 tesserati online che non hanno pagato chiamati a gennaio al congresso di circolo per poter rispettare le regole e quindi versare aderire al partito democratico completare praticamente l'attesione non si sono presentati ho fatto presente nel verbale che si redige a fine giornata di questa circostanza chi hanno partecipato chi è sottoscritto chi è invece me li ritrovo ancora una volta 15 a venticano ma ce ne stanno in tutti i circoli 10, 15, 20 alla fine sono queste Roma ha deciso che vanno bene anche se non sono venuti non hanno pagato non fa niente vanno bene lo stesso e Roma decide da Roma si pontifica da in alto e non vede purtroppo quello che succede nelle parti basse del partito in questo clima di Guglielmo lei invece che cosa si augura per il congresso? io mi auguro che anche questa fase di scontro sulla questione delle online insomma come dire ma non solo ma in generale sui tesseramenti io ripeto insomma non è possibile che andiamo al voto e abbiamo circoli al di là delle online con 400 tessere e 380 voti per il partito democratico e lì non erano online quindi un tema c'è un tema della partecipazione dell'iscrizione c'è un tema di boicottaggio mi sembra dall'uno dall'altro punto di vista ritorna al tema noi il nostro compito credo che dopo insomma il voto di domenica e lunedì è di lavorare insieme su riammagliare i territori gli iscritti alla federazione provinciale questo deve essere il nostro obiettivo c'è una piena sintonia tra l'iscritto tra il militante tra il simpatizzante perché ci sono anche persone che si vogliono avvicinare al partito democratico però vedendo insomma le polemiche la minaccia di rivolgersi alla magistratura insomma le persone non solo non votano partito democratico né si iscrivono ma si allontanano e quindi noi dobbiamo fare in modo che tutte queste cose si risolvano e si risolvano nel migliore dei modi proprio perché come diceva Michelangelo noi vogliamo bene al simbolo del partito democratico siamo del partito democratico e quindi troveremo le soluzioni politiche per andare avanti io vi ringrazio il tempo a nostra disposizione è terminato la discussione è stata serrata con posizioni divergenti ma anche posizioni chiare rispetto ai contenuti e ai temi poi ognuno si farà l'opinione che meglio ritiene e comunque noi seguiremo l'evoluzione delle prossime ore perché salvo diverse comunicazioni che Ciarcia dice possono ancora venire Di Guilamo dice probabilmente non ce ne sono ma domenica e lunedì si andrà al voto nei circoli per l'elezione del segretario ma dal segretario poi non solo perché bisogna leggere l'assemblea dall'assemblea la direzione il tesoriere giusto? a proposito ma lei è in carica in carica perciò dall'alto della mia carica io queste cose perché le conosco bene le cose mie le conosco bene perché insomma pensato di rimettersi rispetto a questa carica sì di fatti una cosa che farò a breve perché se domenica e lunedì succederanno le cose che abbiamo previsto cioè che si fa il congresso e facciamo finta di nulla è chiaro che lunedì farò penso di fare insomma le dimissioni non so come vediamo 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 in modo plateale o meno plateale sono un tipo sempre riservato e faccio le mie cose sempre con discrezione però onestamente insomma io la disponibilità che ho dato fino ad oggi in dieci anni non la devo lei auspica invece di Guglielmo immagino che Ciarcia non arrivi a tanto a cose clamorose io auspico sempre una sana discussione all'interno degli organi eletti e quindi nell'assemblea anche negli altri organi che poi il partito dovrà formare quindi mi ripeto una sana dialettica una sana diversità di visione ma un'unione sul simbolo e per il partito democratico grazie a Michelangelo Ciarcia grazie a Giuseppe Di Guglielmo grazie a voi per l'attenzione e buon proseguimento vi terremo aggiornati sullo scontro nel PD e sul congresso grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti